ciao, sono Antonio Gentile e sono qui per provare con voi questo nuovo accessorio della Schlagwerk è il Cajon Base Tube come vedete si tratta di un semplice tubo di plastica che inserito nel foro posteriore del vostro Cajon è in grado di potenziarne incredibilmente i bassi adesso lo proveremo insieme dato che è difficile sentire i bassi sul vostro computer se possibile utilizzate una cuffia per ascoltare questo test proviamo prima il Cajon senza Base Tube adesso inseriamo il Base Tube come vedete si incastra e si blocca da solo inserito 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 e eccoci qui per provare un altro importante accessorio della Schlagwerk è lui il cajon flap è un piccolo strumento di legno che può essere applicato facilmente sul fianco del vostro cajon grazie a due strisce di velcro adesive con un semplice tocco vi dà un bellissimo suono di castagnuelas o di nacre se preferite e la sensibilità può essere regolata grazie ad una brugola che agisce su due viti quindi con un movimento semplicissimo a questo punto proviamolo insieme grazie a tutti Grazie a tutti.